Ben ritrovati sul canale Silvano, il pesci vendolo che cucina per una nuova ricetta. L'ingrediente principale della ricetta di oggi è uno fra i pesci cosiddetti poveri. È un pesce azzurro molto comune, fornito dalla pesca locale bel tempo permettendo. Sono le alici, o meglio conosciute come sardoni. Mi raccomando che siano fresche. Per una ricetta semplice ma molto sfiziosa, le alici impanate. Vediamo gli ingredienti. Per questa ricetta ci servono due manciate di alici freschissime, farina, uova, crackers sbriciolati, olio per friggere, limone e prezzemolo per decorare. Iniziamo! La pulizia delle alici l'abbiamo fatta vedere nella video ricetta alici marinate. Ecco le alici pulite, spinate e asciugate. Prendiamo le alici pulite, le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto e quindi nei crackers sbriciolati. Con un piccolo accorgimento le pressiamo con le dita. Ecco le nostre anici pronte per essere fritte. Friggiamo a 180 gradi finché non saranno dorate. Le asciughiamo su carta assorbente e le serviamo. A Genova, per definire una persona stupida, si dice che ha un cervello come le acciughe, cioè piccolissimo. Ecco pronte le nostre alici impanate. Buon appetito! Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un mi piace, condividete, commentate e iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video!